Ciao a tutti amici di ECOBEL, oggi sono qua con un nuovo video dove vi introduco le nostre 4 lampadine R7S LED top della gamma, come potete vedere. Abbiamo scelto 4 lampadine che sono per noi il top della gamma e tra poco scoprirete il perché. La prima lampadina che vi presento è questa lampadina R7S LED Supernova 2100 lumens, 16 watt e mezzo, 360 gradi, 118 mm. Questa lampadina come potete vedere performa 2100 lumens, quindi è super potente ed è considerata per noi il top della gamma. Inoltre ha un sistema di dissipazione fatto tutto in metallo, quindi permette un'ottima dissipazione, cioè una lunga durata. La seconda lampadina che vi introduco è questa lampadina R7S LED in ceramica, slim, 1200 lumens, 11 watt, 360 gradi, 118 mm. Questa lampadina è considerata per noi il top della gamma perché ha un diametro molto contenuto di soli 18 mm. Inoltre è fatta tutta in ceramica, quindi ha un ottimo sistema di dissipazione ed infine la lampadina è dimmerabile. A proposito di questo vi farò vedere un breve filmato sulla dimmerazione. Grazie a tutti. La terza lampadina che vi introduco è la seconda. È sempre un R7S in ceramica e si tratta di questa R7S LED in ceramica, ultra slim, 950 lumens, 9 watt, 360 gradi, 118 mm. Questa lampadina è considerata per noi il top della gamma perché è fatta tutta in ceramica, quindi ha un ottimo sistema di dissipazione e la specialità di questa lampadina è il fatto di avere un diametro molto contenuto di soli pensate 14 mm. Quindi questa lampadina si avvicina molto al diametro di una R7S allogena. L'ultima lampadina che vi introduco è la nostra lampadina R7S LED Focus 1250 lumens, 10 watt, 270 gradi, 118 mm. Questa lampadina è considerata per noi il top della gamma perché come potete vedere ha l'attacco basso di soli 6 mm. Inoltre consuma solo 10 watt, ha un angolo concentrato di 270 gradi ed infine la lampadina è dimmerabile. Anche in questo caso vedrete un breve filmato sulla dimmerazione. Questa lampadina è considerata per noi. Questa lampadina è considerata per noi. Le nostre 4 lampadine si aggiungono alla nostra linea completa di lampadine R7S LED che è composta da Quattro lampadine R7S LED a 360 gradi standard ed immirabili, 118 e 78 mm. Tre lampadine R7S LED a 360 gradi slim standard ed immirabili in ceramica 118 mm. Ed infine tre lampadine R7S LED della nostra serie Focus a 270 gradi standard ed immirabili, 118 e 78 mm. Cari amici trovate tutte le nostre nuove lampadine R7S LED su Amazon. Vi ricordo che i prezzi comprendono l'IVA e il trasporto a casa vostra in tutta Italia con Amazon Prime in meno di due giorni. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao, alla prossima!